Ciao, sono la dottoressa Elena Monopoli ed oggi ho deciso di fare questo video per dare un consiglio a te che sei alle prese con doppie punte e capelli devitalizzati. La maniera migliore per curare le punte, per idratarle, per illuminarle, per migliorare anche la morbidezza dei tuoi capelli è quello di utilizzare degli oli, utilizzati come impacchi, un'oretta prima di fare lo shampoo. Gli oli in commercio sono tantissimi, puoi utilizzare l'olio di jojoba, l'olio di argan, ma anche il più comune e semplice olio di oliva non è da sottovalutare perché è ricchissimo di proprietà e di sostanze emollienti e nutrienti. L'olio che io preferisco consigliarti però è l'olio di cocco, sempre quello extravergine, quello non raffinato che dà ai tuoi capelli lucentezza, morbidezza e soprattutto un'azione riparatrice. Puoi utilizzarlo facendo un piccolo impacco, unendo in parti uguali olio di cocco e miele. Applica questo impacco per un'oretta prima di fare lo shampoo e noterai i risultati anche immediatamente. Grazie per aver ascoltato questo video, se hai bisogno di ulteriori consigli lascia anche un commento qui in calcio al video. Ciao!